Questa presidenza inizia in un periodo particolarmente difficile perché pensavamo di aver messo piedi fuori dalla crisi ma tutti gli indicatori economici indicano che invece ci siamo ancora dentro e ci aspettano anni difficili. Lega Coppa Abruzzo può rappresentare una risposta forte, un anticorpo forte agli elementi di crisi perché all'interno della cooperazione esistono meccanismi di solidarietà e di mutualità che sono il primo elemento di risposta ai momenti di crisi. È fondamentale trovare una piena collaborazione con gli istituzioni, con gli enti, con le associazioni perché soltanto attraverso uno sforzo collettivo si può cercare di far ripartire un volano virtuoso che cerchi di rimettere al centro l'uomo rispetto a tutte le tematiche del mondo del lavoro.